Ciao a tutti gli amici di Pistachissimo.it, Pasqua si avvicina e quindi ecco qui una nuova colomba al pistacchio da assaggiare. Questa mi arriva dal Cordial Bar di Bronte e come sempre la assaggiamo dopo la sigla. Questa è la scatola ma come sempre ci interessa poco e quindi parliamo della colomba. Supera abbondantemente il chilo, è glassata con cioccolato bianco al pistacchio e tutta granellata di pistacchio. All'interno è farcita con crema di pistacchio in cui la percentuale di pistacchio è del 40%. Vi ho già parlato della loro crema che è molto interessante perché è costituita da un 30% di pasta di pistacchio nella crema più un 10% di granella di pistacchio in mezzo che dà una nota croccante molto interessante. Comunque sulla mia pagina trovate il video dedicato in cui assaggio il vasetto della loro crema di pistacchio. E ovviamente trovate sia la crema che la colomba sul loro sito ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo all'assaggio. Ed ecco qua la fetta di colomba, probabilmente nel video non si vede molto bene la crema ma c'è sia da questo lato che da questo lato però non contrasta molto con l'impasto sia perché la crema è molto chiara perché non c'è clorofilla sia perché l'impasto è un po' scuretto dato che c'è un po' di pistacchio in mezzo. Mi spiace che sicuramente non si riesca a farli vedere ma in mezzo alla crema ci sono tutti i puntini di granella di pistacchio come vi avevo raccontato prima. E quindi passiamo all'assaggio. Mamma mia l'impasto è buonissimo! E soprattutto non è molto dolce il che è perfetto perché si equilibra molto bene con la crema. Confermo inoltre che la crema è molto buona, ha un leggero retrogusto vanigliato comunque di crema al latte con il gusto del pistacchio che si sente sia grazie al 30% sia grazie alla granella croccante che trovate in mezzo ai denti. Fantastico! Un'altra cosa di cui mi sono appena accorto assaggiandola è che c'è un sottile strato di crema messo sotto tutta la glassa anche questo probabilmente nel video non si nota ma c'è questo sottile strato. E quindi passiamo alle conclusioni. Lo avete capito? Mi è piaciuta. Sia perché il pistacchio si sente parecchio grazie alla crema all'interno e la granella sulla superficie ma soprattutto perché mi ha dato una sorta di sensazione di naturalezza quasi di dolce fatta a casa proprio per il tipo di gusto che ha l'impasto che è veramente molto buono ma non troppo dolce e secondo me questo si sposa molto bene con la dolcezza della crema e crea un'unione di gusti che funziona. Se la ordinate vi consiglio di provare anche la loro crema in vasetto che secondo me rende ancora di più, sprigiona molto di più il suo gusto rispetto che all'interno dell'impasto complessivo della colomba. Complimenti quindi al Cordial Bar! Come avevo accennato all'inizio trovate tutto sul loro sito che vi lascio qui sotto potete ordinare la colomba o altri loro prodotti spedizione in tutta Italia. Ovviamente dato il momento un po' complicato per qualsiasi informazione chiedete sempre a loro. è inutile che chiedete a me perché probabilmente poi vi dirò di chiedere comunque a loro. Con questo è tutto, io vi saluto e come sempre ci vediamo al prossimo video!